Gara dai due volti al comunale di Castelnuovo. Primo tempo vivace, ricco di emozioni e con due gol. Seconda frazione più bloccata, dove le due squadre non si fanno male. Fra Castelnuovo e Portodascoli termina 1-1. Con le immagini da Nilo Di Giandomenico passiamo agli alzi la partita. La prima occasione al terzo minuto è per gli abruzzesi. Bell 1-2 fra De Gidi e De Mili. Il numero 7 Neroverde prova a sorprendere sul primo palo testa che gli dice no. Il Portodascoli risponde un paio di minuti più tardi con un'invenzione da fermo di Napolano. Sensi di testa si fa ribattere da Natale. Dai calci piazzati, Napolano è un vero e proprio fattore. Passa l'acqua, sfrutta una sponda aerea ed impegna seriamente l'estremo locale. Al 14esimo, però, gli ospiti passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, D'Alessandro sbuca sul primo palo ed infila Natale per lo 0-1 Orange. Sulle ali dell'entusiasmo, Napolano scavalca la barriera ancora da calcio di punizione, ma spedisce alto. Dopo una fase di assestamento, i Neroverdi alla mezz'ora pareggiano. Splendido il guizio di De Gidio sulla sinistra, per Morelli è troppo semplice gonfiare la rete da due passi. Gli uomini di Di Fabio dimostrano una buona forza mentale, capitalizzando al meglio una ghiotta occasione. De Gidio è scatenato e dai suoi piedi fioccano pericoli per gli avversari. Troppo largo il diagonale che non impensierisce testa. Sul finale di prima frazione, i padroni di casa si fanno vedere ancora con Emili. La solo personale del numero 10 si spegne alto. A rientro dagli spogliatoi, parte forte il Castelnuovo, voglioso di ribaltare il risultato. Il tentativo di De Gidio è però troppo flebile. Il pallone termina docile fra le braccia di testa. Il primo affondo della ripresa per gli ospiti arriva al ventitresimo con Petrini, che raccoglie un pallone vagando a centro aria e testa i riflessi di Natale. La gara scorre via con diverse interruzioni. Fioccano i cartellini gialli. Casimiri blocca Napolano in volato a rete con un fallo tattico. Sugli sviluppi del calcio Franco blocca con sicurezza Natale. Dall'altra parte, a due minuti dal termine, Sanseverino spinge come un treno. Camarà però sciupa tutto da due passi. L'ultima emozione è sui piedi dello stesso Sanseverino, che rientra sul destro e tenta la conclusione da fuori, che risulta tuttavia innocua. Non succede più nulla. Il Castelnuovo raccoglie un punto contro un avversario di livello in una settimana tormentata sul lato mercato. Si allunga invece la striscia positiva del Porto d'Ascoli, vera e propria rivelazione di questo campionato. Il Porto d'Ascoli non lo permette a nessuno. Noi comunque ci abbiamo provato, sempre, cercando di fare, nonostante gli spazi fossero veramente ridottissimi, abbiamo cercato di provare a vincere e l'occasione l'abbiamo avuta. Dopo, purtroppo, se non la butti dentro, adesso sta a recriminare. Però, ripeto, a me quello che mi interessa è la grande partita che hanno fatto loro a livello di intensità e poi sicuramente mi auguro che arriveranno anche i gol. Se sono tre anni che sta con noi Ale, lo sappiamo, sappiamo il suo valore. Nonostante non sia un fuori quota, che magari le squadre in quei ruoli fa giocare fuori quota, lui gioca, trova costantemente posto proprio perché è un giocatore che fa bene sia la fase difensiva ma soprattutto anche quella offensiva. Noi sapevamo che era una gara difficile perché Castelnuovo è partito per fare un cambiamento di vertice e indipendentemente dal fatto che abbia potuto perdere il giocatore negli ultimi giorni e sapevamo che i giocatori chiave di questa squadra erano rimasti e lo hanno dimostrato. Quindi siamo venuti sapendo di fare una partita complicata, dura. Abbiamo fatto, secondo me, per 20 minuti molto bene. Abbiamo avuto un impatto sulla gara da squadra consapevole, da squadra che sa quello che vuole e siamo andati in vantaggio. Purtroppo l'infortunio di Battista ha un po' cambiato l'inerzia della gara perché stavamo facendo molto bene sugli esterni. Abbiamo preso un gol in una maniera un po' particolare e poi siamo stati, secondo me, bravi a non perdere distanza, a rimetterci lì, a saper fare anche una partita di sofferenza e di sacrificio. Abbiamo perso qualche giocatore di troppo, per l'infortunio, per squalifica e adesso, mercoledì, arriva una partita che già era difficile per il valore della vastese che, se non sbaglio, oggi ha vinto con il Trastevere e per noi dobbiamo fare un po' la conta e vedere chi i giocatori avevamo a disposizione.